Ciao a tutti, oggi rivestiremo un cerchietto con della stoffa. Il nostro materiale è un cerchietto, una striscia di stoffa fantasia a vostro piacere, pasta maneria, colla per tessuti e forbici. Partiamo col mettere colla alla base del cerchietto. In alternativa, se non avete colla per tessuti, potete usare colla vinilica o anche colla a caldo. Io tendo sempre a evitarla la colla a caldo perché mi brucio sempre i polpastrelli, quindi dove possibile la evito. Posizioniamo la stoffa, schiacciamo per farla durire, in modo che la struttura mi riempiega. Perfetto, ora possiamo applicare un po' di colla nella parte interna. Pieghiamo la stoffa verso l'interno. Pieghiamo la stoffa verso l'interno. Pieghiamo la stoffa verso l'interno, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lasciamo asciugare la colla e il cerchietto è pronto. Ciao a tutti e al prossimo tutorial.